noi siamo entrati nel pig butchering scam si lo traduco in italiano è la truffa della macellazione del maiale cioè voi lo sapevate ve lo aspettavate una cosa del genere praticamente nota anche come shah jupan è partita in cina dopo andatevelo a cercare questa cosa c'è la big butchering scam cioè solo in inglese sostanzialmente nasce in cina nel 2016 e se vedete la tipologia di frode a livello tecnico questo giusto per avere così un riferimento anche come posso dire teorico da studiosi sostanzialmente è quella in cui siamo entrati noi che è molto diversa da le altre tipologie di truffe perché si basa proprio nella fiducia nell'ottenimento di una fiducia forte e di un rapporto molto lungo mentre altre truffe che abbiamo visto sul canale e continueremo a vedere sul canale si basano su un'emozione cioè del tipo investi oggi 250 euro domani la promozione scade quindi tu hai questo senso di perdita ed entri subito nel loop la truffa del butchering scam del peak butchering scam funziona proprio così sul rapporto molto più lungo e in genere infatti riguarda anche criptovalute quindi già queste fasi ottenere la fiducia quindi con conversazioni informali e introduzione all'investimento una volta è stata la fiducia il truffatore presenta uno schema di investimento presentando promettendo rendimenti significativi in un periodo molto breve quello che è successo a noi raccolta di denaro e quindi dopo aver convinto la vittima a investire i truffatori raccolgono ulteriori fondi spesso attraverso piattaforme di pagamento digitale spesso attraverso le criptovalute ma semplicemente per complicare il monitoraggio non è che guadagna in criptovalute sia meno o più che guadagna con i soldi diciamo la moneta tradizionale e poi la totale scomparsa del truffatore mai sentita questo tipo di truffa no mai sentita almeno io però l'ho incontrata me l'hanno segnalata e mi andava di condividere con voi anche per fare un po di così un po di divulgazione seria questo sì però matteo marco marco matteo mi cazzo marco fa una un commento interessante uno degli aspetti più negativi della truffa è la fretta qualcosa che scade entro pochissimo anche seppure prodotti questo questo aspetto della fretta dell'assenza di un'opportunità però è anche uno dei cardini del marketing anche di alcune pubblicità quindi è molto difficile dire questa è una red flag della truffa sì però questa invece non si basa su questo cioè non c'è un elemento di fretta sbrigati ammette i soldi sbrigati è tutto molto lento ripeto in questo caso io spero che sia chiaro a tutti se ci sono persone noi spero che siano entrate nel nello store nella storia però quattro giorni fa è la prima volta cadele mi ha chiesto i soldi veri me l'ha chiesti ma non l'avrebbe presi il primo investimento 250 euro questa organizzazione ti chiede i soldi dopo un mese bravo bravo poltrono e sofà usa questa cosa nel marketing e non è nato e non è una truffa no evidente una truffa schiena è una truffa